Sulla vicenda dello stadio Pastena, dopo il provendimento del Tar, che per il momento ha bocciato quella che era la decisione dell'amministrazione comunale di Battipaglia, che prevedeva addirittura lo sfratto della Virtus Battipaglia Calcio dallo stadio, è intervenuto il consigliere comunale di Civicamente Maurizio Mirra. L'amministrazione comunale aveva decretato lo sfratto per la Virtus Battipaglia allo stadio Pastena, mentre il Tar ha sospeso questo provvedimento. Cosa accade tra l'altro e periodo di allenamenti? Sì, questo è un problema perché nello stadio Pastena alcune delle compagini cittadine dovevano iniziare gli allenamenti a partire dalla fine del mese, per cui si deve capire se questa decisione può creare dei problemi, soprattutto per le squadre adesso neopromosse in promozione, che avrebbero bisogno di uno stadio adeguato, visto che a Battipaglia non abbiamo una struttura sportiva per il gioco del calcio, che ricordiamo bene che nello stadio Sant'Anna ci sono dei lavori per l'adeguamento e la ristrutturazione, mentre per il Pastena c'è il problema dell'agibilità che sembra doversi risolvere entro il mese di settembre. Questa decisione scompagina un po' tutto, è vero che la decisione non è nel merito, però la sospensiva fa sì che la disponibilità dello stadio si procrastini a dopo la decisione del Tar, la decisione effettiva. La cosa che ci ha lasciato Basidi è che il Comune ha deciso di non resistere, non costituirsi immediatamente in giudizio, nemmeno in questa fase sospensiva, di fronte al giudice monocratico. Non pensiamo che non ci fossero stati tempi per farlo, anche perché anche loro hanno le giunte in streaming, quindi avrebbero potuto farlo veramente in pochissimo tempo. Di fatti questo crea un po' di apprezzione nelle squadre di calcio della nostra città. Ecco, insomma, tra l'altro si tramanda da anni questa inagibilità dello stadio Pastena e di altre strutture sportive. È un male per la nostra comunità? Ah, purtroppo sì. Battipaglia in termini di strutture sportive pubbliche sta messa veramente male. Non c'è stata negli anni mai una pianificazione per la realizzazione, anche in partenariato pubblico-privato, oppure l'adeguamento delle strutture esistenti. Nonostante ci siano numerosi finanziamenti, l'ultimo Sport Missione Comune 2023, e l'abbiamo segnalato con una mozione qualche settimana fa. Non c'è una programmazione, ma è un problema in tutte le cose di questa amministrazione. E da pagarlo sono, in questo caso, le società sportive. Però, come vediamo, in tutte le altre situazioni a pagarlo sono i cittadini, con una mancanza totale di servizi per qualsiasi tipo di esigenza ci possa essere. Grazie.